Ciao, questo è un altro video. Ho comprato, c'è una mia amica, le caramelle di e di potter, dove saranno alcuni gusti buoni e alcuni cattivi, tra cui massomelo, pepe nero, anguia, vomito, tutti i frutti eccetera eccetera. Ho comprato in un negozio dove vendere tutte le cose del cioccolato e cose del genere. Quindi ha caricato un nuovo video comunque su youtube. Se vi interessa andate a vedere. Posso vedere? Che cacchia è? E ha sapone. Era buona. Faccio la schifo. Dico. Non c'è calore. E a ossa, no? Per puntini. È buona. Di che cosa ti sa? Che! Sì! Pepe. No. Vai, corra, amore! Sì! Non vi. Sì, bravo. Sì, non guardare. Vai! È sicura? Sì sì. Sì. Ma era cattivo intanto. Sì. Drogliano. Sì. 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 Cos'era? È la cannella. Ciao!